Sorgente è un operatore globale nel settore dell'energia, opera in più di 25 paesi al mondo e nella sua opera si avvale di due principali realtà. La prima è la Sorgente SRL, che per noi è un investment company che investe nella realizzazione e nello sviluppo di iniziative nel settore dell'energia rinnovabili, soprattutto da fonte idroelettrica, eolica e fotovoltaica. La seconda realtà con cui noi operiamo è la ST Energy SPA, che è un general contractor che come tale realizza e coordina grandi iniziative nella realizzazione di opere di ingegneria elettrica e impiantistica. Il progetto di crescita principale dell'azienda si suddivide in due, a seconda della realtà in cui stiamo lavorando. Ovviamente per quanto riguarda il ramo degli investimenti c'è una grossa attenzione all'internazionalizzazione, ad oggi l'azienda comunque già ha un fatturato espresso per il 50% all'estero. L'intenzione è di incrementare la quota di internazionalizzazione proprio per creare una diversificazione geografica del gruppo, incrementando la quota di investimenti soprattutto da fonti idroelettriche e soprattutto all'estero. Per quanto riguarda invece l'impresa di genera contractor, la stabilizzazione della quota di mercato nella realizzazione anche chiave in mano di centrali idroelettriche e comunque di centrali elettriche a fonte rinnovabile, nonché senza mai tralasciare comunque quelli che sono gli approcci in nuove aree geografiche. Abbiamo deciso di entrare a far parte del progetto Elite perché riteniamo che Elite sia un percorso prestigioso per poter crescere, per poter confrontarci con imprese che comunque come noi si stanno internazionalizzando, stanno crescendo molto. La nostra società è relativamente molto giovane, ha 15 anni di vita e sta crescendo molto, soprattutto negli ultimi anni. Quindi riteniamo che un percorso di crescita e di internazionalizzazione debba essere anche supportato da degli esperti. Inoltre ovviamente essendo un'azienda che fa investimenti e quindi capital intensive abbiamo necessità di avere maggiore visibilità nel mondo della finanza.